Musica Noi crediamo che un progetto importante prenda vita se alla base ci sono più idee messe a confronto, che una vittoria si ottenga quando c'è condivisioni di sapere, energia e passione. Il detto l'unione fa la forza non può trovare miglior esempio in questo video e nel nostro lavoro. Musica Musica Musica